Sconvitta casalinga per la Nissa che ha perso 1-0 contro il Siracusa. La partita l'ha decisa il 23 maggio che ha insaccato in gol al culme di un autentico batti e ribatti che alla fine ha premiato gli attacchi della squadra ospite. Prima del vantaggio tuttavia le occasioni migliori erano state della Nissa che era andata molto vicina al vantaggio. Alla fine il risultato ha premiato gli aree 2-6 che hanno confermato dopo il 3-0 alla Ragusa di essere in crescita di poter puntare in alto. Per la Nissa uno stop che non deve suonare a condanna in quanto di fronte aveva una delle più forti squadre del girone I ma è chiaro che per dirla come Terranova bisogna abbassare la testa e lavorare pensando alla prossima trasferta contro la Sambiase.